per il ritiro del numero 1 Macbeth B in prima fila Letmico CLF, Lurifax, Nebraska N, Golden Giller, Nikla e Eiligan seconda fila per Nat, Marcel, Luperbox SM Nitrofez, Nemo Winner SM e Lampedusa Per Abbandonato l'allineamento Lampedusa Per che ripiega in coda parte con cautela il numero 7 Eiligan che sta scivolando in ultima posizione mentre per il comando lottano Lurifax e Nebraska N davanti all'Etmico CLF che ha all'esterno Nikla Nebraska N ha il via libera da Lurifax mentre all'esterno c'è Nikla che punta decisa in avanti trascinandosi Golden Giller lungo la corda c'è Nat davanti a Marcel, poi Nemo Winner SM all'esterno seguito da Nitrofez e Eiligan Nikla si porta su Nebraska N dopo 350 metri di gara va ad impegnare l'avversario che però sembra intenzionato a correre al comando e i primi 400 metri sono comunque in un relativamente tranquillo 31,6 quindi Nikla si limita ad accompagnare Nebraska N avendo all'interno Lurifax quindi l'Etmico CLF che ha all'esterno Golden Giller un'altra pariglia composta da Nat e Nemo Winner SM quindi Marcel in coppia con Nitrofez Luperbox SM che ha all'esterno Eiligan in coda Lampedusa per gruppo compatto in Pariglia anche dopo 800 metri di gara con parziale accelerazione da parte di Nebraska N per un mezzo miglio iniziale nell'ordine dell'1,18 Nikla sempre protesa al Salchi del leader lo impegna e il primo giro è sul piede dell'1,17,5 con Nebraska N leader Nikla all'esterno Lurifax in seconda posizione con vicino Golden Giller quindi l'Etmico CLF Nemo Winner SM all'esterno in corda Nat Marcel in coppia con Nitrofez Luperbox SM che ha all'esterno Eiligan in coda Lampedusa per situazione tattica che non muta quando siamo ormai a 650 metri al traguardo ora Lurifax cerca spazio all'interno di Nikla che ha leggermente allargato Lurifax ne approfitta per andare all'attacco di Nebraska N rimane in terza ruota Nikla poi l'Etmico CLF davanti a Nat reagisce Nebraska N in lotta con Lurifax e Nikla i tre sono quasi su di una linea l'ultima curva l'errore improvviso di Lurifax e allora a spazio dalla corda l'Etmico CLF per tagliare fuori Nikla imitato da Nat e andare all'attacco di Nebraska N che è ancora leader all'ingresso del retarivo dove Nat si scopre in terza ruota all'esterno di L'Etmico CLF è calata Nikla alla corda Nebraska N insiste e sta passando L'Etmico CLF ancora più incisiva sembra Nat a centropista Nat con Enrico Conti che passa di slancio vince chiaramente sull'Etmico CLF Nebraska N il gruppo regolato da Marcel e dunque 8-2-4 l'arrivo ufficioso naturalmente della terza di Tordivalle con Nebraska N che dopo aver respinto sul percorso Nikla e poi anche Lurifax in retta d'arrivo si arrende prima all'Etmico CLF ma poi soprattutto a Nat che passa di slancio nel finale vince con Enrico Conti davanti all'Etmico CLF e Nebraska N dunque 8-2-4 l'arrivo ufficioso della terza di Tordivalle 6,37 la quota per